Sul podio mentre ecco Cipollini li sentiremo poi tutti dopo la conclusione mentre Cerquetti rimane sempre in coda al gruppo pronti ad intervistare subito dopo l'arrivo i concorrenti. Ecco Chioccioli che sta lanciando lo sprint un'immagine insolita viene fuori Petito Canzonieri un'immagine insolita per Chioccioli che lancia lo sprint di Cipollini ed è Leoni che sta scattando ma è Cipollini attenzione Leoni Cipollini Baffi seconda vittoria per Leoni. Leoni su Cipollini e Baffi ma attenzione vediamo che sta arrivando Giovannetti Bauer ecco che arriva Chiappucci il ritardo di Chiappucci che non è riuscito a trattare.